Il dato mette in evidenza come questo censimento mostri come di fatto la popolazione italiana sia stazionaria, cioè gli stessi numeri che in qualche modo comparivano nel 2011, nella grande esperienza precedente, sono in qualche modo confermati, anche se c'è una variazione interna, nel senso che più o meno rimaniamo a 59 milioni e mezzo di abitanti, ma con una diminuzione della componente italiana è un aumento della componente straniera diffuso su tutto il territorio nazionale. Altri fenomeni che risultano dalle caratteristiche che siamo in grado di presentare, che sono il sesso, l'età, il livello di istruzione, la cittadinanza naturalmente, da queste caratteristiche emerge una fotografia di una popolazione, di un popolo invecchiato, quindi aumenta la dimensione della componente più matura e al tempo stesso diminuisce la componente più giovane, rimane, era già confermata in precedenza, ma forse un po' si accentua alla prevalenza della componente femminile, quindi delle donne e naturalmente la presenza straniera si rinforza rispetto a quella che era l'immagine emersa nel 2011.